musica 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 è stato ripagato. Infatti mi devo farlo anche con il fake che ho portato, devo farlo indovinare. Vabbè, no, l'herba si perde forte. Ma non hai indovinato però tutti i colori. Eh, ma se quello è il beo, perché se gli indovino tutti gli altri dubbi sono meglio. No, la questione... Cioè, ma... allora, capiamo se c'è una roba. Possiamo noi altri del 12 o elomatici? Cioè nel senso... Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Questo è il... questo è il dilemma. Ma Dio, ancora. Oh, se devo buttare su quanto al cuore... Ma che c'era il ninco? Il cazzo gli era un motorinco. Un motorinco. Oh! Potevi scenderla anche domenica, no? Chi ha i rimorchi? Sì, dopo se cucinai un po'. Tra il col e il resto... Se vuoi dire che Marco sei quando sei il secondo cane l'acqua su casa tua... Ahahahahahahhhhhh Ahahahahahhh. Vabbè, di voi sta bene... Ahahahahhh. 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 Ahahahhaeh. Ahahahahah. Ahahahahhh. 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 Ahahahh. la differenza di quelle ore cassa la canada comunque secondo me Marco secondo me Marti dovrebbe essere passaggio di livello o no da dipendente normale a identificatore di balle e sto caglio 4 ore di balle e anche distruttore di pomeriggio le metti in acqua così e pesa di fine ahahah abbiamo già svolto questi esperimenti, non preoccupare cosa sono sti rumori? una cosa strana anche avendo torto è un rimorchio i guaioni no, è quasi un rimorchio questo qua e si è in massa? e non so perchè guarda, qui schiaccia il tasto e ora arriva ma se ti do battere qualcosa non so come tagliarle guarda, 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 finta che vada sul mouse Martino buongiorno mi potrei andare su tutto da cing e poi cazzo da cing ma te che ancora tagliare il film usate di tutti eh no, tu hai il 56 un po' ecco qua la mia bravo, eh, sembra di pensare a patata ho visto, prezzete Marco, facciamo un psiluro di... ah, mi sa che io ero me eh, però il messiero là che vuoi usare una roba costituzionalmente davanti quindi ho il 5 e 10 o... e che c'è, che c'è il caso qua? che c'è il caso qua? che c'è il caso qua? 880, 880 e tinta qua, salame, no? che c'è, non confondere cioccolata bianca da quella nera e avanti oh! non poteva dire non confondere il pan con il latte non confondere... no ma se le due robe diverse le panne a merda bianca con il cazzo nero e si, ti pare che faccio questo sboccatto se io era il contrario, quello intendo io comunque sempre è un po', se non ti hai la parola nero ti imboca no, te sei contento ah, non sei è il tuo bene ehi ah, te che è qualcosa, te che è il tè al limone te che hai detto... Mh, te il limone, pia e pia e pia che due, oh se non ti è pissare anche dal cuore ma no, non ci, io lo so la seccata... si parla con... la pissare ogni volta No, sono saponese. No, sinese, testa di minchia. Cingiuwe, cingiuwe, non avevo latte ma solo te. Salve il manitù. Allora, per un attimo, dove sei tu? Ah, stai guardando il mondo da un'altra prossima. E ne apporto. No, dove, dove, dove? Ah, grande il Marco. Marco, primo dei contratti, sempre. Stai che roba tanto il Marco. Attenzion, mamma che capotone, ma che roba. Error è mio, bravo! E' vero, se che non gli era neanche a carico. Eh, infatti, però, mi sa che ha fatto cura e massa alla Valentino Rossi. Eh, non con questa violenza, ma... Sì, sì, dai che vale, che... Eh, occhio, faccio vedere come si solleva in modo delicato, eh. Questi giovincelli. Questa roba tua. Ah, vado. Ah, no, eh... Che seria, Gaspar, da fare un meme? O no? Sì, beh, eh... Arampeto si strissa. Oh, no. Eh, oh, ma... Dio, Gaspar, è una cosa che si strissa. Una cosa? No. No, perché se... Tu sei che io ho foto con il dolce e che... A proposito, ah, che mi ha foto con il dolce senza nati che invistano. Eh... No? Ahah, eh... Ok, la prossima volta abbiamo in un giro, mi sei incantonato, nooo! No, dovemmo il canceo? No, no! Cosa? Ditti, ditti, mio team fa una sfida, stava deciso. Oddio! 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 No, no, che stronzo, va, che senti? Eh, però ti fatti il svantaggio, ti vuoi dire. La fiamma. Eh sì, Marco la sfida è stata qua, domenica. Ma mia, che mica è stata qua? Ma che sfida? Ma che sfida? Non c'era un chilometro. Vai via, vai via, pezzente. Non ti sembra sta poco tardi prima. Beh, non c'era ancora detto lì. Se partivi con una roba leggera, lui partiva con un misto posto. Se partivi in modo cattivo. Beh, da un misto posto, cosa c'hai? Funghi! E basta! È mio, mi ha messo il posto. Chi ha mannito falloide? Eh, era qui sul vaso. Che stai di attrazione la gara? No, vediamo che siamo giro pizza. Sono a 5 pizza, mi direi. Ma se no, diudì, temo! Mamma, hai paura! Temo, sì, ma vieni da capire. Sì, sì, ma vieni da riaprire la sala. È terribile che ti senti... Da là ti senti l'eco delle bestemme. Scusate. Buona, 3, 2, 1, senza emanare gas. Un rumore molestico. Diretti, guarda, non lo vuoi toccare a registrare! Io so che ci vuoi fare, in modo da baruffare. E siamo ancora molesti. Buona. Comunque, provano, vedete, ho fatto il meme che mandemmo a Cipetiotto. Oh, Marco, Marco, Marco. Chi è? Chi è? Chi è? Chat, 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 privata, chat, chat. Eh, attenzione, chat. Aspetta che scrivano anche sul gruppo. Come dei ragazzi. Ah! Che c'è sempre che è sempre in aguato... No, no, sì, non lo vado. No, no, è sempre in aguato. Oh, ti fa mai bene niente, ti spesso, è una figa. Oh! Oh, del cazzo grosso! Oh, oh! Marco! Yeah! Altro Marco! Quale? Marco, mamma. Comunque... Yeah! Se anche lei è un prototipo e costa mago, ciao cazzo io se la giapponese ti fai lente questa è un'altra storia scattonare dopo questo c'è la macchina giusta che c'è nel sinistro cosa? c'è la macchina giusta per quel volta c'è il marzo 200 cavalli roba che ti parte via e girei dai i tre pei che gira e mi arriva su i veri 110 cavalli aspetta mi sono secco il trattore che ho facendo manovra e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga